Hit me with the horse! C'è Abbandoni di già? Devi. Dunque ricordi il mio nome. Ho parecchie cose da spiegarti. Avrei dovuto fidarmi di te. Non c'è tempo per le smancerie. Mi sembra tu abbia fretta di trovare la morte. Devo sistemare le cose, a qualunque costo. Allora prendi questo. Oh, e cerca di tornare tutto intero. Inizio a pensare che la mia regina abbia un debole per te. Quanto tempo vengono fatigliare queste gallerie. E che ci dico cosa fai? Immagino. Nicola, rispondi. Sono nelle catacombe. Sto arrivando. Sir Galahad, sei fuori di seno. Non devi venire qui. Non muoverti. Tra poco sarò lì. Sì, vai cadere un'occhiata. Maledizione. Sì, vai cadere. 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 Sì. Sì, vai cadere. 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 Tio. Oh pare hai cadere. Quei sei perev ничего. !!! E' una bomba. Verm Iditi benissimo. Col! Si! Prove, hai caduto la bomba? No, l'abbè? вопросы. No ti entriamo dai miei你們 verdi. Trove, la bomba. No! 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 Attenzione! Vamo a terra! Cacchiavolo! Basta! Nicola! Stavo cercando proprio te. Ah! Come posso aiutarmi, Sir Luca? Seguimi. Ma abbiamo molto di cui parlare. Certo, Sir. Maledetto Alastair! No! 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 Nicola! Che è successo? Lady Lakshmi aveva ragione. Lui sapeva. Ti porto via da qui. È ancora dentro. È troppo tardi. Non possiamo fare nulla. Mi resta una cosa da fare. No! 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 prima entrerà cover